Facilitare l'assunzione di manager e dirigenti da parte delle piccole imprese lo prevede un recente accordo siglato tra Confapi e Federmanager. Abbiamo previsto delle strade di ingresso più agevolate per i giovani manager che hanno un'età non supera a 43 anni e anche per recuperare i dirigenti disoccupati, tanti ce ne sono, molto bravi che sono in attesa di un rimpiego. In questi casi abbiamo previsto una retribuzione mensile circa del 20% più bassa e abbiamo previsto anche delle clausole di uscita ridotte. Tra Confapi e Federmanager regole condivise anche sulla risoluzione del rapporto di lavoro. È chiaro che a fronte di una maggiore flessibilità nella fase di accesso al ruolo abbiamo condiviso con Confapi una riappropriazione di quelle che sono le motivazioni che consentono di ritenere giustificato un licenziamento per motivi di tipo riorganizzativo. Abbiamo quindi definito noi quali sono le situazioni che vanno tutelate e non farcele dire dalla giurisprudenza.